Annunci vuoti che non risolvono le questioni sul tavolo. Da Forza Italia piovono critiche verso la giunta regionale guidata dal presidente Luciano D'Alfonso in relazione soprattutto alle tante emergenze ancora irrisolte sul territorio alla soglia della stagione invernale. I consiglieri regionali Febbo e Sospiri parlano di propaganda elettorale da parte del governatore rispetto ai milioni di euro in arrivo nelle casse degli enti locali. Dopo un'attenta lettura delle delibere approvate e dei relativi atti ci accorgiamo che ci troviamo di fatto di fronte al solito blef d'Alfonsiano, tuonano i consiglieri azzurri, che si chiedono dove siano finiti i soldi del masterplan. Oggi masterplan nella vecchia legislatura si chiamavano FSC 2007-2013, si stanno rimodulando gli FSC 2007-2013 peraltro con un richiamo da parte di Bruxelles perché ancora arriva la rendicondazione, siamo fino al 2017. Si rimodulano, tutte le delibere non portano né la firma del dirigente responsabile né la firma del direttore e addirittura del ragioniere capo. Secondo me si è persa la cognizione dei fondi perché i fondi hanno un bilancio a parte. Abbiamo una delibera che sblocca un finanziamento già bloccato da due anni, cioè dal 1 dicembre 2016 dell'FSC che serve a coprire la depurazione in particolare di Pescara e il dissesto ideologico in molti altri comuni e c'è la lettera del dirigente del Ministero dei Trasporti che dice dobbiamo portare avanti adesso insieme le fasi, quindi dando l'idea di una programmazione che è molto più lunga delle esigenze che hanno i comuni sul dissesto ideologico e abbiamo la famosa riunione avuta con il responsabile della protezione civile a cui il Presidente D'Alfonso ha portato questo dossier da 300 milioni e passa di danni sul dissesto ideologico dell'Abruzzo. Ora o non è vero il dossier e D'Alfonso la sparate o è vero il dossier e dobbiamo essere molto preoccupati da cui questo grido di allarme perché a quel dossier Borrelli ha risposto picca, gli ha detto guarda io non c'ho una lira se vuoi recati a Palazzo Ghigi io ti ridò semplicemente i soldi delle somme urgenze.